Un tavolo operativo con il compito di avviare una ricognizione nel settore della raffinazione degli idrocarburi per individuare eventuali criticità regolamentari proponendo soluzioni per snellire le procedure ai tempi burocratici. E' quanto hanno proposto gli assessori regionali all'energia e alle attività produttive, Giusuè Marino e Marco Venturi, al termine è un incontro in tema di raffinazione convocato dagli stessi componenti del governo Lombardo. Alla riunione erano presenti anche il dirigente generale del Dipartimento Energia Gianluca Galati e rappresentanti delle raffinerie di Milazzo, Augusta, Priolo Gargallo e Gela, di Confindustria Sicilia, Confindustria Siracusa e Caltanissetta e dell'ENI. I rappresentanti del mondo produttivo hanno evidenziato i disagi e le preoccupazioni anche di natura occupazionale legate alla contrazione della richiesta di prodotti lavorati e in generale per la crisi che colpisce il settore. Tempi certi e snellimento dei procedimenti burocratici, afferma l'assessore Venturi, sono le principali richieste su cui l'amministrazione intende concentrarsi per andare incontro alle richieste provenienti dal tessuto produttivo in generale e dal settore della raffinazione in questo caso. L'iniziativa si inquadra in un'azione complessiva di incremento dell'efficienza, aggiunge l'assessore Giusuè Marino, strategicamente portata avanti sul territorio e che ha consentito di registrare risultati positivi nell'ambito dell'iter autorizzativo con un incremento significativo del numero delle conferenze di servizio.